del critico d'arte Vittorio Sgarbia al Museo Eccel Kreuzzer in via Argentieri a Bolzano. Visita questa mattina del noto critico d'arte e presidente del Marti Roveretto Vittorio Sgarbia alla casa Museo Eccel Kreuzzer di via Argentieri a Bolzano. Un palazzo donato prima di morire dal magistrato imprenditore e collezionista bolzanino Josef Kreuzzer con la sua collezione di oltre 1500 opere alla provincia autonoma. Dipinti di altissimo livello, una vetrina dell'arte moderna importante. E quindi noi abbiamo collezioni ricchissime, abbiamo quasi 20.000 pezzi al Marte ma sono pezzi di arte italiana ed europea. Qui invece c'è un segmento di un numero di 1500 opere molto ben selezionate che sono l'autobiografia di Kreuzzer però che era un uomo sensibile e quindi non indulgeva soltanto a ciò che gli piaceva ma al tentativo di creare un'immagine completa dell'arte espressa in quest'area geografica tra il Trentino e l'Alto Adige e anche il Tirolo. Nel suo ruolo di presidente del Marti Vittorio Sgarbi non ha nascosto la voglia di provare a creare un'unione, un dialogo più forte con il Museo di Bolzano. È evidente che il dialogo col Museo è una delle ipotesi che si è fatta e che non so quanto perseguita, prima di me mi pare poco, ma che riprendendo adesso a vivere potremo sicuramente stabilire. Quella è una relazione di mostre che creano un nastro tra Bolzano e Rovereto e anche alcuni degli artisti, già alcune di queste opere sono venute a Rovereto che possono essere portati non soltanto al Marte ma anche in altri grandi musei italiani dove l'arte del nord Italia, in particolare l'arte di confine fra Italia e Germania è meno conosciuta, quindi ci sono molte cose che potrebbero essere rivelazioni vere e proprie. Riguardo invece alle manifestazioni che si sono susseguite in diverse piazze italiane a causa dell'entrata in vigore del Green Pass, Sgarbi ha un suo pensiero, una sua idea. Certamente le manifestazioni hanno evidenziato la contraddizione, se un pacifico portuale sta seduto in piazza e fa una manifestazione candiana tu non lo cacci con gli idranti, quindi quello è un errore e contemporaneamente non devi consentire a nessuno di attaccare la sedere alla CGL, per cui abbiamo vissuto un periodo di grande confusione. D'altra parte la confusione era relativa anche alla tensione elettorale che adesso è finita, quindi forse oggi si potrà trovare una trattativa più logica fra le legittime necessità di chi non è d'accordo con qualcosa e quindi protesta, altrimenti la repressione grave significa che uno non può pensare, anche sbagliando, una cosa che è dannosa solo per lui. La repressione è determinata dalla visione di Draghi, che è una visione economicistica che intende stabilire delle regole per uscire il presto possibile, quindi in tempi rapidi ho capito che sarà entro la fine dell'anno, quando finisce l'emergenza finirà anche il restrizionismo, salvo che non ci sia una reazione ribelle del Covid che ci rimette, ma speriamo che non capiti perché il Covid ha già rotto le palle abbastanza. Grazie. 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 Grazie.